Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Questo titolo che sembra essere un PC Building Simulator dove però noi possiamo anche, siamo anche incentivati a farlo, possiamo essere cattivi, quindi rubare, come dice la pagina Steam, le RAM, bruciare le schede madre e così via. Praticamente possiamo all'inizio avviare la partita, abbiamo la possibilità di affittare il nostro negozio. Il gioco non è in italiano ma dovrebbe essere comprensibile, perlomeno anche rispetto ad altri titoli. Questo è il classico di tanti indie, state tranquilli, il primo caricamento potrebbe richiedere un po' di tempo e quindi noi un po' di tempo aspettiamo. Perfetto, benvenuto in computer, ok. Questo è un ostello dove tu dormi, devi pagare ogni giorno, se tu ti addormenti lungo la strada, i tuoi soldi saranno rubati, quindi torna alla tua stanza affittata. Perfetto, questo è l'angolino dell'ostello. Mi piace molto il modo di camminare. Bene. Devo pagare i 50 dollari. Ah, ho già pagato, ok. Boh, dove andiamo? Oddio, ok. Lavoriamo qua vicino però. Sì, la grafica, l'ambientazione è quella del classico disagio. Disagio. Ok. Ma ci stanno picchiando. Tantissimo ci stanno picchiando. Quindi... Ahia, mi hanno steso. Ma inizia malissimo. Inizia malissimo. Questo è steroid man, posso pagare i 50 dollari, mi darà una mazza da baseball. Perfetto, ora torniamo indietro. Clicco col destro, non posso colpire... Sì, posso colpire chi voglio. Vabbè. Dove andiamo però? Perché... Ok, con M apriamo il tab OS, ma non c'è la mappa. Quindi cerchiamo di capire dove... Dove è il nostro... Posto. Questo è Computer Parts, quindi qui compriamo i computer. E... Eccoli qua. Perché avanzano lentamente? Ok, questo arriva direttamente da Starei e credo sia una bella citazione. Allora, chiudiamo la porta. Pulisci il posto. Puoi usare la scopa per pulire i... Ok, eccola qui. Ah, sto trasportando un altro. Ok, aspettate che la metto qui. Bellino! Si pulisce, veramente bene. Sì, pian piano puliamo tutto. E questo diventerà la nostra location dove riparare i computer. Ora ci sta dicendo che è molto sporco. Quindi andiamo a pulire bene. Clean. Ok, buttiamo via mascherine e simili. E ripuliamo tutto. Questo mi piace veramente tanto perché questo è un inizio che alla fine si fa così solo all'inizio. E poi diventerà un posto totalmente diverso da quello che è adesso. E potremo andare a lavorarci. Ok, buttiamo via tutte queste cose. Il gattino sta sempre lì. Il bancale non lo possiamo buttare via perché immagino ci servirà. Buttiamo via il sacchetto qui. La carta igienica va benissimo. Beh dai, siamo al 43%, quindi pian piano stiamo pulendo tutto. Aspettate che butto via un po' di roba. Anche questo. E qua è veramente sporchissimo. Trash, butta via, butta via, butta via. 57%. Cavoli, però non sale quando puliamo il pavimento. Quindi mi sa che bisogna solo buttare via roba adesso. La pulizia arriverà dopo. Però un pochino sale. Quindi secondo me un minimo sì, infatti sta salendo comunque. Quindi però non credo mi resti così tanto da... Dovrò buttare via qualcosa. Allora, vediamo se c'è ancora qualcosa da buttare. Per me va anche più o meno bene così. Buttiamo via la carta igienica. La mascherina. Il ventilatore va bene. Siamo al 74%. Ancora sporchissimo qui. Si pulisce un pochino dove ce ne ha voglia lui, però... 89%. Sì beh dai... Insomma... Ecco, questo non lo avevo visto. Vabbè, con questo spazzolone magico pulisce anche la vernice e i graffiti dai muri. E qua vedo già un sacco di cose interessanti, tipo la possibilità di vedere i computer. Sì, poi questo è uno di quei classici giochi che si apre andando avanti con le ore di gioco. E quindi bisogna assolutamente dargli fiducia. Il gatto comincia ad irritarmi. E qua abbiamo un po' di cose. Abbiamo il... L'aspiratore. No, il soffiatore. Il soffiatore. Il soffiatore. Qui c'è ancora da pulire. Sì. Fatemi vedere. Layer blower. Ah, non posso. Posso prendere un oggetto solo alla volta. Mi piacciono molto anche questi computer un po' vintage. Qua c'è la manina che dobbiamo cancellare. Bene. Poi. Ripare. Ok, no. Qua possiamo riparare ma non mi interessa. Con la Q si esce. Riprendiamo il nostro spazzolone. Ah, qua abbiamo il... Ah, ok. La pistola spara a parezzi. Il soffit è molto spazionato. Abbiamo... Ah, ok. Ok. Very clean. Ok. Take to the item. Allora, aspettate che appoggio lo scopettone. Mettiamo qui. E prendo il computer. Allora, F per vedere l'interno. Qua abbiamo la scheda madre con una Zintel i3. Abbiamo una Zasus ZTX 9920 giga di RAM. Cavoli, non male. La mainboard va bene. La disc è un 2.0 tera. Un pro. Secondo la disc non c'è nulla. La RAM è 20 giga. È proprio tutto totalmente a caso. La RAM. Scusa, 2 RAM. 2 giga e 20. Vabbè, power supply che non c'è. Perfetto. Prendiamo il computer. Mettilo nel tavolo per la riparazione. Quindi lo mettiamo qui. Va bene. Alcuni clienti scrivono il problema e lo mettono come nota sul, ok, read the note. Ho acquistato questo computer l'ultima settimana da un venditore di computer rubati e non butta, non fa butta. Il tizio che me l'ha venduto ha detto che tutte le parti funzionano e il ladro dice il computer era acceso quando l'ho rubato. Per favore risolvimi il problema. Vedete che è tutto molto sarcastico. Io ho già una vaga idea. Secondo me non c'è l'alimentatore. Eh sì, l'ho capito anch'io. Quindi accendi il tablet, premendo il tab e compriamo un alimentatore. Quindi in questo caso si va su Zamazor e si compra un power supply. Non vedo quanti soldi ho, però secondo me ne prendiamo uno piccolino, dai. Complete the order. Va bene. Questo? Questo è il terminale. Ok, dovrebbe arrivare il drone di Zamazon. Teniamo sempre qua la mazza perché se arrivano i tizi brutti brutti lì. Mi piace molto il fatto che... Comunque dovremmo tornare... Eccolo qua il drone. Bellissimo. Grazie. Off and close box. Ah, ok. Sì, sì, sì. Prendi. Sì, sì, grazie. Buttalo lì. No, no, buttalo lì, va bene. Poi prendiamo Take the item e lo montiamo qua. Ok, lo mettiamo qua. Ok, lo trascino. Ok. Bene. Accendi il computer e testalo. Ok, accendiamolo. Vediamo. Mi fanno impazzire queste cose. Tutto online. Vecchissimo il computer. Microsoft. Houseomes PD. Ok. Il file è protetto da password. Abbiamo la possibilità di navigare in internet. Apri anche i siti. Credo. Scusatemi, ma io ho visto una cosa e voglio provarla. Questo. Zornhub. Voglio vedere che cosa esce. My RAM is burning. Bellissimo. Allora. Vabbè, voglio dare un'occhiata al mio computer. Sono le specifiche. 22 di RAM. Sì, infatti sono due banchi. Uno da 20, uno da due. 20 giga di... Sì, ma è bellino. Non ha un product key che possiamo mettergli noi. Ma pensate. Bellino. Sticky notes. Sì, questa è quella che è scritta anche all'esterno. E altro non credo. Dovremmo esserci. Quindi posso turn off the computer. No, scusami, ma posso prenderlo su come fosse. Ok. Ok. Packing section. Completed packing process. Ok, lo mettiamo qua. Ok. E lo impacchettiamo. Calcola il prezzo. Calcolamento. Ok. Delirate cargo sul post office. Quindi praticamente noi adesso andiamo al post office che è di là. Con il signore qua seduto. Quindi buongiorno. Devo. Perfetto. 200 dollari. Ok, ho completato il tutorial. O puoi giocare liberamente. Puoi trovare nuovi computer, nuove soluzioni e così via. Perfetto. Ah, salve. Mi sta portando il computer qua. Non parlano neanche con me. Mi mollano il... Buongiorno. Hey man, ho visto un nuovo negozio aperto e sono venuto. Sono un dipendente da quelle cose lì e penso che il computer sia rotto. Posso... Non posso entrare su Zornab. Puoi controllare. Ho bisogno che diventi più veloce. Ti pagherò. Non mi ricordo la password del computer. Stavo guardando sul giornale a casa e ho scritto... Lo scritto? Ah, la craccherai. Va bene. Flash di clean the table. Perfetto. Sì. Va bene. Ha perso anche la password. Quindi gliela risolviamo noi, la situazione. Comunque dice che è un dipendente da quelle cose lì. Quindi read the note. Ok. Abbiamo la pennetta. Ok. Allora, fatemela prima accendere. Intanto si sta accendendo. Io prendo la chiavetta. Beh, intanto vediamo. Vediamo come funziona. Bellino. Mi chiedo che cosa sia anche questo. Il soffiatore è caduto. E vorrei metterlo via. Lo appoggio qua. Ok. Proviamo con la chiavetta. Prendo la chiavetta. C. Tu inseris la tua USB. Ok. La cracchiamo. Pass Cracker. Sì, perché questo qui è un generatore di key. Un benchmark. Per spiare i messaggi. Generare i virus. Io faccio Pass Cracker. Va bene. Cracca la password. Sai te qual è? Ah, me la sta ritrovando. Ok. Dovrebbe essere questa qua sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Invio. Sì. Perfetto. Passa. Ok. Va bene. Sticky notes. Non posso entrare. Aiutami. Puoi pulire il computer. È una password. Va bene. Allora, intanto vediamo perché non va su questo famigerato sito di malware detected. Perfetto. Quindi io adesso vado sul computer. My computer. Device manager. Ho già scollegato la chiavetta USB, credo. Ma posso fare l'update. Disk driver. Update. Vediamo. Mi ci mette proprio del tempo a farlo. Ma quindi se io mi alzo lui sta a continuare a aggiornare? Fantastico. Ma la chiavetta io l'ho lasciata dentro il pc però. Credo di sì. Quindi pressa. Ok. È già aggiornato. Human interface. Guardate, sapete che non lo so. Mainboard ports. Non so, io li rifaccio. Adesso però dovrei vedere flash drive. Eccola qua, sì. Facciamo un zero writer. Non so cosa sia, ma credo sia una formatazione a livello zero. Overclock. Gli brucio la scheda madre. Ma gli aumento un po' la CPU. E lo faccio andare anche un pelo più veloce. Overclock. Per quello che diceva, bruciate le schede madre. Failed. Però non abbia bruciato. Perché avevo una percentuale di riuscita. Posso pagare? No. Bellissima sta cosa. Allora, unlocker. Cos'è unlocker? Enter the name of the file you want to unlock. Ah, potevo usarlo su quello di Pai, ma gli sbloccavo l'immagine da vedere. Apps. Install. MSN. Winamp. Steam. Avira. Installiamo Avira. L'antivirus. E li facciamo la scansione. E potrebbe essere un pochino ostico per chi non è del mestiere. Però io onestamente questo lo faccio da sempre. Quindi mi sto anche divertendo, eh. Devo dire. Anche Steam. Ho scritto per Steam. Va bene, dai. Vediamo. Vediamo com'è. Perché altro mi domando se la chiavetta me la restituisce o me la posso dimenticare. Comunque. Virus can. E sti cazzo. Tutti sui file di sistema. Questo qua non lo riprendi, sto PC. Ah, use the air blow. Sì, ok, ok. Allora poi dobbiamo apparirlo. Intanto vediamo se... Sì, come lo fa comunque. Non so se il air blower... Devo... Inside the case. Ah, la pennetta è qua davanti. Devo parrenderla dopo. E qua lo imballa. E io... Salve. Ma stai aspettando me? Ah, mi sta aspettando. No, volevo vedere un attimo che ore sono. Perché io ho mille. Ok, i soldi sono questi. Ma guardate quante roba c'è. Le skill che possiamo dare ad aumentare le nostre. Poi abbiamo la possibilità di ordinare dai daroni di Amazon... Zamazor... E le cose. Computer wiki. Con le istruzioni base. Bellino. Eh, poi finiamo di vedere. Intanto aspetto che finisca qui. Perfetto. Scan complete. Veros puliti. Ok, vediamo se va sul sito. Penso di sì a questo punto. Perfetto. E ora mi dice di provare a pulire con questo. Clean the computer. Use the air blower tool. Ah, questo posso selezionare... No, air blower non è questo sicuramente. Perché questo è la sail gun. L'air blower l'ho messo qui. Che bambù che sono. Va bene. Con questo soffiatore. Open machine. Open machine. Posso anche saltare. Ma scusami un secondo. Io adesso prendo il computer. Lo appoggio qua. Posso aprirlo. Questo è il pacco con cui mi è arrivato. Posso buttarlo qua. Per riciclare. Perfetto. Allora aspetti, aspetti un secondo. Che proviamo adesso a pulirlo. Press to look inside the computer. Scusami, ma se io prendo in mano questa. Non riesco a capire. Come faccio? Col soffiatore. Ma non me lo fa fare. No, va bene. Ancora abbiamo risolto. Take the item. No, qua ci guardo dentro. Ma non è questo il senso. Take the item. No, onestamente non... Fammi prendere la chiavetta. L'appoggio qua. Questo può usare il terminale, ma non so cosa serva. Io ho l'air blower. Ma io soffio, ma non me lo fa fare. Io lo appoggio per me in CC. No, non me lo apre. Non c'è proprio modo. Non lo so. Onestamente non lo so. Ah, ma che bambo. Non ho visto lì in alto. A destra la barra. Ok. Si pulisce così. Perfetto, dai. Deliver the computer to zero. Ma scusa. Deliver the computer to zero. Ok, grazie. Ma paghi? 200? Ottimo. Allora è questa, bellissima. Sono le 7 di sera, 8 di sera. Sì, è buio. Aha. Ho sentito del tuo negozio che si stima i computer. Sono una famosa star che fa video su OnlyMans. Ma questo l'avevo visto anche su altri video. Da Mirko l'avevo visto. Mio computer crasha, per favore, sistemalo. Non... Ho ancora dei lubrifici... Ok, va bene. Farò veloce. Allora, trovo il problema. Ah, scusami un secondo, ma... Se io lo accendo e poi gli guardo... Fa un brutto rumore, eh. Ram, powersply, ram, hd. Non puoi vedere che problema ha. C'è più fan error. Ah, F1 su Toran Setup. Posso premere F1? No, non funziona. Ma, scusami. Fan, CPU fan. Provo a cambiarla. CPU... Boh, vediamo. CPU ZMD. Ma fammi un po' capire che CPU è. ZMD 7RD. 7RD. Va bene, dai. Proviamo ad ordinarlo. Vediamo se riusciamo a fixarlo. CPU. ZMD 7RD. 1.9.230. Aggiunge il carrello. Ordina. Aspettiamo il drone. Ah, mi dava anche la preparazione. Bellissimo. Finché... On the way. Ok, sta arrivando. Perfetto. Ah, mi dava forse anche il... Il... No. No. Arriverà, dai. Ok. Ok. Eccolo. Grazie. Eh, io dovrei andare anche a dormire però adesso. Allora, aspetta un secondo che lo appoggio qui. Tolgo questo. Lo metto in mano. E lo appoggio qua. Io gli metto nuovo. Ah, perché qua possiamo scansionare StarScan. È un socket rotto che è fixa. Entra il bad socket. Eh, non lo so qual è il bad socket. Mannaggia. 08. 08. Ah, lo sta riparando. Vabbè, intanto ce ne freghiamo. Li metto dentro il processore nuovo. Intanto l'ho comprato. Vediamo se va. Sì. Voglio vedere una cosa adesso. Ok, intanto qua lo sta riparando. Sta fixando. Ok, qua è partito. Fatemi mettere questa chiavetta un secondo qui. Vediamo. Allora. Ah. E beh, è un uomo. MSN. Ma pensa te. Word. Dove puoi scrivere? Ma mamma mia. Sì, ma non... Va bene. Steam. Cosa giocca la signora? Allora. Sincrack. Red Dead Guy. Binaz. Bellissimo. Bellissimo. Sticky notes. It's broken in one open. Ah, ok. Va bene. La foto l'abbiamo vista. È una chicca. La copia di questo non è genuina. Io provo a sistemagliela, sta cosa. Provo a sistemagliela. My computer. Enter key. E gliela avvio. Faccio OS key generator. Qui c'è anche la musica. Pazzesco. Allora, fammi copiare. 0x3a, bbfe8, 7ofx, d2gd. Perfetto. Gli abbiamo sistemato anche il... Anche cmd. Posso scrivere? Vediamo un po'. IP config. Flush. DNS. No, non funziona. Exit. Sì, infatti funziona questo. Sì, ma secondo me è posto. Il computer è posto. Perfetto. Stacca la chiavetta. Faggiala lì. Il computer è pronto. Arrivederci. 150. Abbiamo speso 200 per il processore, ma va bene. Perché intanto qua abbiamo sistemato. Abbiamo il processore nuovo. Che, vabbè, ormai l'abbiamo scoperto dopo come fare, ma va bene. Io direi che sono le due di notte. Possiamo anche andare a dormire, no? Qualcosa mi dice che... Ok. Ma posso andare a dormire? Non sono stanco? Beh, diamo un'occhiata alla mappa. Computer shop. Austin Room. Roboshop. Perché... Il computer è pazza. Robo Fight. Perché poi... In fasi avanzate di gioco... Vabbè, potremmo avere il gatto. Ma avremo anche la possibilità di... Vabbè, giocare ad azzardo. Ma soprattutto di partecipare a delle Robo Wars. Quindi con... Come quel programma che facevano una volta in tv. Dove si può far combattere più robot. Io se chiudo qui e vado a dormire... Non problema. Perchè altro devo capire dov'è il tizio da qui dormo. Perché... Non me lo ricordo. Allora, questa è la mia zona. L'ostello... L'ostello... Robo Fight. Bellissimo. Secondo me questo qui... Dopo qualche ora decolla. Senza ombra di dubbio. La ghicchia ogni tanto... Ma secondo me bisogna dargli fiducia. Secondo me è un gran bel giochino questo. Computer parts. E praticamente qui possiamo... Da questo tizio qui... Comprare delle cose di dubbia provenienza. Quindi... Magari potremmo avere anche... Beh, queste ce le abbiamo già. Quindi... Niente. Questo qui mi puzza sempre un po'. Questo è il post office. Questo è il mio posto. E... No, dovrei capire quando sono stanco. Perché qua sembra notte. Ma intanto finiamo di vedere quello che c'era. Reviews. Buone. Credo. Employers. Ma posso assumere... Questo fa la protezione. Questo ripara. E le ripari in 5 secondi. Anziché tutta con l'attesa lì. Che comodo. E questo vende per me. Così i clienti non devono aspettare. Quindi io posso rivendere anche il computer. Ma grazie a lui. Non ho dormito. E quindi sono stanco. Perfetto. Però mi sono addormentato in negozio. Perfetto. Buongiorno. Ah, non dà la mano. Due computer ho. Per un po' capire questo cosa vuole. Vediamo. Perché inizio a divertirmi. Read the note. Voglio la CPU. Voglio il mio computer pulito. Il mio computer è la password e spanchi. Non ha la CPU. Ma la CPU noi ce l'abbiamo. Perché l'abbiamo recuperata dal PC della... Streamer. Quindi tecnicamente possiamo metterglielo. Sperando che la scheda madre vada con... Sì. Diamo un'occhiata a questo computer. Con la password spanchi. Vediamo se il processore è giusto. Non penso sia così preciso da avere la scheda madre con un socket non adatto. Perché non credo sia così complicato. Vediamo. Ma micro speedy è solito. Password. Mi sto addormentando. Spanchi. Ok. JPEG. Prima voglio fare una cosa. Prima di cedere al sonno. La connetto. E cracco questo file. Unlocker. Ah, il nome. Ok. Il nome è... 666. Vediamo. Che mi è facile. Allora, il file è 666... 666. 666. JPG. No. Unlocker. Worklocker. Passcracker. Ok. JPEG. Ok. Non possiamo. Però abbiamo una inquietante foto. Va bene. Questo non so cosa dobbiamo fargli di altro. Ma credo possa essere già a posto. Ok. Gli faremo un giro con l'antivirus. Ma intanto io direi che potrei anche salvare qui. Tutti i dati non salvati. E credo che volevo finire di vedere il tablet prima. La mappa. Il virus wiki. L'hacker wiki. Perché la virus wiki mi dà diversi dettagli sui virus. Su come risolverli. E la hacker wiki mi dà diverse info. A riguardo a come funzionano i programmi di hackeraggio. Mentre i bill. Sono i conti che abbiamo. Che non abbiamo al momento. Quindi. In questo momento io sono stanchissimo. Non so se sia notte e se sia giorno. Perché è sempre buio qua. Però dovrei andare a dormire. Quindi sarebbe saggio andare a dormire. Dove c'era l'ostello. Che non mi ricordo tra l'altro neanche dove. E sono caduto per strada. Se cadi per strada. Perdi i soldi. Tecnicamente ho perso 100 dollari. Cioè ne avevo 1150 nel portafoglio. Ma è... È... Giovane... Sono arrivato tardi. Ed era al di là della scala. Eh sì. Dovevo salire di qua. E scendere. Ok. Inizio a farci un pochino alla mano. Comunque ragazzi. Questo qua è un gioco veramente. Veramente molto molto carino. Mi è rimasto il computer dall'altra sera acceso. Dovevo fargli un po' di pulizia. Da tenere assolutamente d'occhio. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E alla prossima ragazzi. Ciao ciao.